Questo è il mese dedicato al Santo Rosario e alle missioni. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera a Maria Benedicimi, o figlia dell'Eterno Padre. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Santi. Amen. E non permettere che io offenda mai il mio Dio con i pensieri. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benedicimi, o Madre del Divin Figlio. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Santi. Amen. E non permettere che io offenda mai il mio Dio con le parole. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benedicimi, o sposa dello Spirito Santo. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amen. E non permettere che io offenda mai il mio Dio con opere e omissioni. Anzi, fa che io l'ami con tutto il mio cuore, e lo faccia anche amare dagli altri. Così sia, o dolce, o pietosa, o amabile Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. A te, o Vergine Madre, che non fosti mai macchiata da alcun neo di colpa, né attuale, né originale. Raccomando e affido la purezza del mio cuore. Pratichiamo questo mese la santa purezza nel corpo e nell'anima. San Bernardo si meravigliava della bontà di Dio nel dare a noi, così miserabili e piccoli, per compagno e custode, uno spirito di dignità tanto sublime, come l'angelo. Il Dio fece questo per amor tuo. Fin dalla nascita, l'angelo ti si pose accanto e non ti abbandona più. Di giorno, di note, pecatore o giusto, tiepido o fervente, grato oppure no, finché vivi, è lì e con te, e pensa con sollecitudine al tuo bene. E tu, invece, ci pensi appena. Quando deciderai di raccomandarti a lui? Vantaggi che ti reca Non fu solo San Pietro a venire sciolto dalle catene dalla prigionia grazie all'angelo. Da quanti pericoli è a nostra insaputa, il nostro angelo salva anche noi per comando di Dio. Ci scuote nel momento del peccato, desta il nostro rimorso dopo le cadute, ci consola nelle afflizioni, ci difende nei pericoli, ci illumina, ci soccore. E' proprio vero che nessun affetto di padre, di fratello o di amico può superare l'amore che ci porta all'angelo custode. Tu come lo ringrazi? Amore all'angelo custode Egli si ama in questo modo 1. Col non fargli cosa alcuna che possa dispiacerli 2. Con limitare la purezza, l'ubidienza, lo zelo per Dio e l'amore per gli altri che ha il nostro angelo 3. Con l'invocarlo nelle azioni principali e nel raccomandarci a Lui negli affari importanti 4. Manifestandoli la nostra riconoscenza dopo la Santa Comunione 5. Pregandolo di supplire per noi nell'amare Gesù e Maria 5. Cosa fai tu di tutto questo? 6. Dove è la tua devozione? 7. Pratica Recita a 9 Angelo di Dio agli angeli custodi 7. Non disgustare il tuo angelo che ti vede sempre 8. Pregandolo di Dio 8. Pregandolo di Dio